Voltare a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Possibile Voltare a destra Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Uscire a destra. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Prepararsi a destra. Prepararsi a voltare a destra. Grazie a tutti. Prepararsi a destra. Prepararsi a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Cerchiamo un nuovo percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guns to head. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. 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 Grazie a tutti. 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 Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.